L'orientamento del Viminale al momento è per il divieto delle manifestazioni in programma a Roma a ridosso del 7 ottobre, a un anno dall'ecitio di Amassi in Israele, ma una decisione non è ancora stata presa, come spiegano fonti di governo. In mattinata il tema è stato oggetto di una riunione in prefettura. L'organizzazione Giovani Palestinesi, sui social, ha annunciato una manifestazione nazionale a Roma per il 5 ottobre, con lo slogan Fermiamo il genocidio, viva la resistenza palestinese. Negli ultimi mesi i cortei del genere si sono svolti regolarmente, tranne quando erano evidenti provocazioni, come quelle organizzate in concomitanza con il giorno della memoria, ma questa volta dietro alla valutazione del divieto viene spiegato Ci sarebbe concreto rischio di ordine pubblico, si ritiene che questa manifestazione sia un tentativo di inneggiare l'ecidio. Le parole d'ordine che accompagnano l'appuntamento d'altronde sono chiare e non equivocabili e arrivano proprio ridosso dal primo anniversario della strage di Hamas, dove vennero uccisi 1200 tra civili e soldati israeliani e rapite 250 persone. Dunque c'è un pericolo concreto di sicurezza, non è questione di censura.